Ragazzi amici miei vedete lì davanti c'è un pazzo chiamato invasore 3000 è molto brutto Praticamente lui ci ha invitato all'interno del suo server no e praticamente E non lo so sta facendo cose strane tipo dei rituali no rituali magici chi lo sa Praticamente lui ha detto cose ha detto entrate nel mio mondo o cose per voi pazzesche bellissime Ma infatti è molto bello è bello ma secondo me mi puzza di citato perché c'è non lo so l'ha fatto lui da solo No dai perché può essere mi ha dato anche l'operatore e non solo a me cioè poi ovviamente io l'ho dato anche a voi però vabbè Perché oggi magari ci disguiseremo adesso tipo cosa gli diciamo gli diciamo Noi andiamo a prendere materiali tipo una roba del genere materialo materialissimo Si va bene insomma andiamo insomma non sto qua o k oddio è arrabbiato vedete Eh mi sembra arrabbiato e dobbiamo stare attentissimi perché chissà cosa gli passa per la mente Allora io direi tipo di disguisarci così vediamo un attimo cosa fa lui tipo io mi disguiserei in un kitchen E tipo così almeno sembra che siamo lontani comunque i villager io li odio male Cioè odio talmente tanto la loro voce incredibilmente odiosa Si è orribile hai ragione Si 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 ma perché veramente ma poi tipo anche se io ok ho tolto proprio le friendly creatures che sono proprio orribili Però noi adesso entriamo dentro Ok Siamo un gruppo di polli comunque tu Nick non hai parlato in niente dall'inizio del video Eh lo so scusami Devi vergognarti per questa cosa Allora vieni qua cioè vieni venite tutti quanti qua Ok Dove sta l'invasore eccolo là lo vedo lo vedo chissà che cosa in mente questo pazzo sincopato Sincopato per petto Dov'è? Non ho che domicare E' qua che continua a scappare Stai fermo che non riesco a prendermi Ah no ne ho la più pari d'idea Cioè veramente stanno succedendo un sacco di Ma dove è finito? Dove è finito? Dove sta andando? Ma maestro della fuga Ma infatti veramente ma basta Ma no vabbè lo sto odiando ora No basta lo sto Allora se stai guardando questo video spero di no Mi auguro Però insomma c'è nel senso non scappare così tanto Ok sta Vedi sta coltivando molto bene Male si sta coltivando male però sta coltivando Sì infatti è stata aspetta saltiamogli sugli ortaggi tipo Ok ok ah No via 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 che potrebbe arrabbiarsi questo Aspetta No Ok come vedete adesso siamo dei gatti perché era crashato il server Molto bello Sì 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 Non è che era crashato il server però insomma non so Secondo me c'ha tipo chiccati lui secondo me potrebbe anche essere Saltiamogli sugli ortaggi Sì vai No ma se qua si arrabbia eh Probabilmente si e ci ammazza Vediamo Oddio scappiamo Non so finta di nulla No 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 allora scappiamo prima di tutto Poi non parliamoci addosso tutti quanti No mi sta seguendo a me Perché sta seguendo a me Mi vuole dare il grano ma non voglio il grano Che poi questo qua Ma 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 i gatti mangiano il grano Eh non so è un pazzo questo invasore 3000 Tipo un invasore pazzo secondo me Però no sto scherzando invasore Se stai guardando questo video ti vogliamo bene E sei molto simpatico Ecco chi è stato a dargli un pugno Oddio ragazzi ha scritto amori e avete trovato materiali Che schifo Allora prima di tutto amori che schifo Cioè nel senso mi dissocio Io non voglio assolutamente essere associato Anche io Eh mi spiace ma fino a questo punto comunque invasore No assolutamente no Cioè mi spiace ma no Ma praticamente tu nonno vai scriviti Che abbiamo trovato un sacco di materiali Sì scrivo Tipo li stiamo cercando Io devo Vieni con me Anzi anche tu nonno Perché sennò poi dopo Ok sì ti inserisco Comunque sei stata una Una scheggia comunque Eh lo so ho imparato a scrivere Eh ho visto Ma scusa dove è finito l'invasore Ah perché poi noi abbiamo anche il TP comunque Perché appunto abbiamo tutti i materiali Quindi potremmo anche usarlo volendo Eh sì 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 Però non vorrei che sto qua si insospettisse Eh dopo vedi dei gatti dentro il castello Sai com'è un po' strano Eh esatto esatto capito Cioè questa è la cosa che mi fa un po' Capito storcere il naso Non vorrei mai che tipo si insospettisse Che dicesse ah Eh hai ragione Ma come si fa un gatto Questo gatto però è Dunis E allora vedi che qua c'è qual quadra che non cosa E poi dopo dice Buttiamoli fuori perché sono strani Invece no dobbiamo ritrovarlo Con le nostre stesse forze Ma dove è finito Eh va bene però Ma ci metto un bel po' Eh non lo so La nostra missione è appunto Trovarlo in questo momento Perché l'unica missione Guarda che secondo me In questo castello ci sono cose che Inimmaginabili Eccolo qua L'abbiamo trovato Oh eccolo È brutto Ok sta andando nel castello Allora Volevo vedere assolutamente Cosa c'era nel castello Perché secondo me ci sono Cosa c'è Cosa c'è Venite venite amici Mi raccomando Non perdetevi Perché se ci perdiamo Poi dopo magari Non capiamo dove dobbiamo andare Oh cosa sta facendo Dobbiamo aprire piano piano la porta Vieni vieni Ok No Allora si è messa Ma per me su questa cosa Non lo so No cosa sta facendo Cosa sta facendo Oh Io me ne vado Mi dissocio Prendi ore di stanze Raga Anch'io Raga perché è successa questa cosa No mi sa che sei arrabbiato Secondo me si sta insospettendo Raga Allora vi spiego Allora spiego per chi non ha capito Però è difficile non capire in questo caso Praticamente Lui questa è una sala delle torture Adesso vado a capirlo meglio A vedere meglio Eh vai vai Una sala delle torture Diciamo così Oppure per meglio dire Qualcosa di particolarmente utile Ma poi perché con le teste dell'ender dragon Cioè nel senso lui S'immagina C'è capito Con le teste delle Cioè non è magari Ti dice una testa normale Non dirla Non dirla Non dirla Io mi dissocio totalmente Oh ci sta picchiando Mi sa che ho dei gatti A sto punto Trasformiamoci in qualcos'altro Tipo in pesce Dato che gli piacciono particolarmente No No Cody Io sono diventato un Cody Magari Ok perfetto E secondo me è molto bella Come cosa Questa Cioè È una particolare forma di Di love No Molto particolare Devo dire Ma perché c'è una lenta Ma che caspita Non lo so Eh sono io perché non so Cosa sono i pesi Ah ok Cioè quindi tu ovviamente Invece di scrivere code Scrivi Non lo so Ah code Ma io veramente sciocco Basito da Da nonno E dalla sua Ma io mi strello Eh sì Comunque mi sa che stiamo facendo Un sacco di casino Io ve lo sto dicendo Ma Ma perché Non ne ho idea Io non sono crashato Ma io Mi strello Mi ha portato nulla Eh va bene Tieni qua Dove cazzo stai andando tu Mi muovo Non so star fermo Vedo Hai 80 anni Eppure non riesci a star fermo Schifoso Cioè io veramente Non riesci a star fermo sto qua Allora praticamente C'è stata un'interruzione tecnica Perché il server a quanto pare Continua a crashare Mannaggia il server Secondo me questo Il suo server è un po' rotto Signore Lo aggiusti un attimo Comunque Forza entriamo Perché secondo me Ma senza essere disgredati Vediamo un attimo la sua reazione Perché secondo me Ma sicuro? Ma sì Tanto diciamo che siamo stati A prendere un po' di materiali Anche se tipo Gli facciamo vedere tipo dei semini Lui tanto ci casca comunque È stupido Cioè Vabbè dai siamo un po' stupidi Non hai ragione però E infatti ha l'armatura in ferro Eccolo 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 Ciao Perché Mamma mia che brutto Sì ecco è felice vedi È molto felice Ciao Sì ho scritto quai Però vabbè Ciao Ciao Vedi è molto felice di vederci E sta Aveva pure shiftato Quindi questa cosa è abbastanza Perché sta shiftando In questo Mi sta inquietando Esatto Pure a me sta facendo paura E' un po' Perché sta facendo No No Io prendo le distanze I maniaci Via Perché ci devono essere pieni di maniaci qua Ma Ma è uscito È morto Per lo stesso motivo suo Non so Vabbè Esprimiamo meglio questo sero Magari troviamo qualcos'altro di strano Però secondo me Qua Gattacicova Secondo me lui sta tipo Non lo so Sta escogitando un piano Per catturarci E per tenerci sempre qui ragazzi Cioè Io ve lo sto dicendo Questo qua Gattacicova A parte per le sue cose medievali Per le sue torture medievali Che hanno le torture Che gli piacciono molto peraltro E soprattutto Perché è un po' auto-lesionista Quanto Si può dire questa cosa No No Lasciamo stare va Evitiamo E mi dissocio E quindi Niente Vedremo un attimo come andrà a finire questa storia